Wabalabadabdabe bentornati su No Mamamazzo Continuiamo a parlare di Samuel Stern e oggi parliamo del numero 17 Samuel Stern dal titolo Il Regno Prima di cominciare se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale mettete un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati tutti i video che usciranno d'ora in poi condividete il video con tutte le persone che amano Samuel Stern e scrivete qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo numero e del mio video iscrivetevi anche agli altri miei social per vedere quello che faccio nei suddetti Entriamo subito nel vivo, c'è tanto da dire in Samuel Stern Il Regno Questo numero mi ha dato una sensazione di vivere quasi un sogno, un incubo è un numero molto onirico però a differenza del numero scorso, Il Processo Stern dove effettivamente era un sogno, un incubo però dove diciamo lo sceneggiatore ha voluto un attimino illuderci che fosse ambientato nella realtà per poi darci un plot twist finale qua è chiaro che siamo in uno stato di coscienza diverso che non siamo nella realtà quando ci troviamo nel Regno ma il fatto stesso che non sappiamo come ci siamo arrivati ci dà questa sensazione di straniamento di sensazione negativa che lo sceneggiatore vuole e riesce a farci provare che è davvero un colpo ben riuscito per la Bugs Comics mi sembrava quasi di sentire, dato che si parla del Regno come di un film di uno Snuff Movie, poi vediamo che cos'è, mi sembrava quasi di sentirne la colonna sonora e sentivo come dei rumori disturbati, un rumore bianco di fondo come del vento che batteva sul microfono e della musica al contrario mentre leggevo mi sembrava quasi di sentire questa colonna sonora davvero disturbante e mi è piaciuto molto questa sensazione di disagio in questo numero non c'è una vera e propria possessione demoniaca però c'è tanta disperazione che dilaga, che serpeggia vediamo da vicino il brodo primordiale che diventa terreno fertile per far nascere le cosiddette ombre, i cosiddetti demoni questo brodo primordiale è all'interno in questo caso di persone fragili persone spezzate, persone che non hanno subito un vero e proprio trauma forte da far creare appunto un'ombra ma che sono spezzate dalla vita sono già di per sé molto tendenti a essere deboli, fragili, sensibili e allo stesso tempo sono alienate dal mondo esterno sono estraniate, sono state magari anche come nel caso che vediamo nello specifico anche soggiogate, plagiate e quindi ancora più ferite per questo queste persone, queste tipologie di persone sono rappresentate molto bene da Josie Crandall una ragazza che è stata sedotta e abbandonata che è stata plagiata dal suo professore di arti cinematografiche che si chiama Hollander che si sente talmente vuota dopo essere stata usata da una persona di cui era innamorata che decide di sua spontanea volontà o così pensiamo di partecipare a questo mediometraggio questo corto, questo film del genere Snuff Movie che è un genere orrendo che esiste davvero che è nato se non sbaglio negli anni 40 e è un genere che comprende la ripresa di vere mutilazioni di veri omicidi in videocamera per poi essere riportate nel film ovviamente è un genere diventato subito illegale per ovvie ragioni e che qua pare dilagare nel dark web Josie vuole partecipare a questo film senza sapere bene di cosa si tratta e quando lo capisce cerca di scappare traumatizzata da quello che gli è successo ma poi la vediamo di nuovo scappare dalla protezione datagli da Samo il padre d'Ankan Angus il poliziotto il detective Cran per tornare di nuovo all'interno del regno perché scopriamo perché preferisci sentire quella sensazione di dolore quella sensazione di male interiore di punizione di autoflagellazione piuttosto che l'alternativa ovvero l'alternativa che è quello che gli ha fatto provare il professore ovvero non sentire più nulla sentirsi totalmente vuota e qui apre anche un quesito molto profondo è preferibile è meglio sentire male sentire del dolore parlo di dolore sentimentale di emozioni negative o arrivare a un punto della propria vita in cui si è talmente oltre che non si prova più nulla io ovviamente mi auguro che voi non arriviate a provare nessuna delle due sensazioni meno che meno la seconda credetemi bene e soprattutto vi auguro che nessuno prenda il diritto di trattarvi come il professor Hollander ha trattato Josie nessuno ha il potere nessuno ha il diritto di farvi sentire miserabili di farvi sentire in colpa solo voi dovete essere autori fautori della vostra felicità del vostro destino ma che cos'è questo regno? questo regno è uno stato di coscienza come può essere il paradiso o l'inferno non per forza luoghi fisici ma anche luoghi fisici ma è uno stato di coscienza in cui le anime le anime vive di queste persone che si sentono dannate nella loro vita terrena si ritrovano per appunto autoflagellarsi mi ha ricordato molto anche una certa parte del film Soul della Disney Pixar tra l'altro ho fatto una recensione di Soul andatela a vedere che così non parliamo sempre di Samuel Stern non so se avete visto quel film ovviamente è tutto un altro sentimento quello che vi suscita però parla di anime parla anche di come ci si estranea dal mondo reale dal mondo terreno quando si ha una forte ispirazione artistica una forte ispirazione positiva ma anche negativa come il avere un continuo pensiero ridondante nella testa che ti porta a estraniarti nella realtà e a avvolgerti in un bozzolo di sentimenti negativi ecco questo regno è più o meno quello che succede in questa parte del film Soul ma in qualche modo questo regno appunto oltre a essere uno stato di coscienza è anche un luogo in un certo senso non fisico ma un luogo che comunque riesce a essere rappresentato essere impresso nella pellicola di appunto uno snuff movie una pellicola o un supporto digitale dal momento che gira in modo virale nel web gira nel dark web in cerca di vittime di vittime innocenti di persone altrettanto fragili come Josie il fatto che abbia questo supporto fisico il regno serve oltre a mandare avanti la trama perché sennò la storia non inizierebbe perché sennò il detective Krana non avrebbe delle prove per contattare Samuel oltre a Josie stessa serve nella storia nella finzione narrativa perché serve a trovare nuovi adepti nuove vittime solitarie che entrano a far parte di questo regno purtroppo nulla di più vicino alla cronaca nulla di più vicino a quello che succede nella vita reale purtroppo abbiamo sentito più e più volte poi per carità i giornali gonfiano sempre le cose per demonizzare il mezzo e non la fruizione del tale mezzo ma lo abbiamo sentito in diverse occasioni ultimamente di ragazzini che si tolgono la vita per affrontare delle challenge che trovano sui social che trovano nel web ragazzini che sono vittima non del mezzo utilizzato ma dell'indifferenza delle persone che gli stanno vicine che gli stanno fisicamente vicine ma che in realtà non le seguono per nulla il personaggio del pusher il filosofo parla di questo regno di questi inferni come di domanda e di offerta come la richiesta come la domanda appunto da parte di questo tipo di persone molto fragili generi l'offerta da parte dei demoni di un inferno personalizzato ed è in questo strano gioco di mercato demoniaco gioco di anime che trova terreno fertile legione il regno è quindi un'estensione mentale un'estensione dell'anima dell'inferno dei demoni legione nella finzione di samuel stern è il nome che i demoni danno al loro inferno dove per qualche motivo riescono comunque ad attrarre ad attirare le anime di questi vivi per omiliarle per godere della loro sofferenza mi piace però anche il fatto che il titolo il regno abbia un doppio significato riferito al finale che vediamo in questo numero ovvero al regno di dominazione sessuale così testuali parole di samuel stern creato dal professor hollander nemico finale di questo numero che viene parzialmente sconfitto come magra consolazione in un numero dove in realtà nessuno vince tant'è che nemmeno il detective cranna ha delle prove reali per incastrare il professor hollander ma quanto meno gli mettono un po' di pepe sotto la sedia per fargli capire che il suo regno finirà molto presto richiesto a gran voce tra l'altro anche da uno dei miei scorsi video torna il detective cranna che abbiamo visto nel numero nell'abisso o nella casa delle farfalle non ricordo no nella casa delle farfalle e mi era piaciuto davvero tanto quel personaggio e il modo in cui interagiva con samuel stern sono felice di averlo rivisto spero davvero che entri appunto nel gioco dei personaggi ricorrenti non dico principali ma ricorrenti mi sono piaciute un paio di scene con samuel stern alla buddy movie alla buddy comedy anche se di buddy di amiconi non c'è proprio nulla dato che cranna manco per scherzo punzecchia samuel lo detesta proprio proprio un duro e puro di un action movie degli anni 90 quindi due protagonisti principali sono samuel che è molto solitario insieme a josey in questa in questa avventura ma anche il detective insieme a samuel ciò nonostante gli altri personaggi come padre d'uncan e angus sono comunque ben dosati angus tra l'altro ha un ruolo leggermente superiore a quello di padre d'uncan e ha uno dei suoi sproloqui in cui spiega un pochino le cose esattamente come le ha spiegate nei suoi appunti del daryling che non so se ha avuto un momento un po' più appunto come dice lui stesso un po' più prolisso per diciamola così sponsorizzare il numero speciale che uscirà a maggio ovvero racconti dal daryling quindi non so se ci hanno fatto annusare un po' più di angus anche per questo motivo un paio di quelli che potrebbero essere forse buchi di trama non lo so o magari li vedremo più avanti o magari non li ho capiti io sono due non ho capito perché josey pare richiedere la presenza di un sacerdote ma quando vede l'abito talare quando vede il collarino di un prete in padre duncan ma anche in un altro prete alla fine non c'è un motivo spiegato successivamente non c'è un approfondimento io pensavo che parte di questo regno appunto non fosse una cosa generata dalla coscienza e dai demoni ma fosse una sorta di setta in cui erano presenti anche dei sacerdoti invece no è tutt'altro quindi non si capisce perché questa paura di josey per i sacerdoti e un'altra cosa è il collegamento tra il regno e il sangue a un certo punto Samuel capisce che c'è il sangue come collegamento e si tocca un taglio sulla guancia e lo fanno usare a un tossicomane come se il sangue stesso fosse una droga come se appunto il modo per drogarsi ed entrare nel regno sia il sangue ma anche questo non viene approfondito peccato ma le pagine sono queste e preferisco che il numero sia così piuttosto che abbia approfondito cose lasciandone indietro altre che invece ho trovato davvero interessantissime un ultimo punto sui disegni poi lo sapete ne parliamo sempre in modo più specifico nella mia instagram tv se il video non lo trovate subito qui sotto nella descrizione uscirà magari tra qualche giorno quindi tornate su questo video e andate a sbirciare ci metto magari sempre qualche giorno in più per parlare dei disegni i disegni sono di vincenzo acunzo e sono davvero perfetti per questo tipo di numero acunzo sa cambiare stile di disegno a seconda che la storia sia ambientata nel mondo reale o nel regno non so se si è anche aiutato a livello di post produzione con il computer con la computer grafica ma quando si è nel regno oltre al fatto che le immagini sono più sgranate più distorte i demoni sono davvero non umani mi è sembrato anche di notare una sorta di filigrana di pellicola perché appunto il regno è anche un film in un certo senso e mi è davvero piaciuto questo tocco bene io tutto quello che dovevo dire su questo numero che mi ha emozionato appunto mi ha fatto generare anche delle riflessioni che spero vi siano piaciute l'ho detto scrivetemi voi qui sotto se vi ha dato le stesse riflessioni se vi è fatto venire altre riflessioni magari si nasce una bella conversazione qua sotto creiamo una bella community io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui noi ci vediamo il prossimo mese con Samuel Stern tra un giorno per Dylan Dog a maggio per gli appunti del Derry Lang e come sempre io vi dico che con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci